Il Comune di Oristano ha pubblicato il bando per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle famiglie per l'istruzione nell'anno scolastico 2015-2016 e per i contributi per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2016-2017. I bandi sono rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. In entrambi i casi, per partecipare ai bandi, il nucleo familiare deve presentare un indicatore della situazione economica equivalente, inferiore o uguale a 14.650 euro. La modulistica è disponibile sul sito istituzionale www.comune.ruistano.it e presso gli uffici del Comune, Informa Città, Piazza Eleonora e uffici relazioni con il pubblico. Le domande dovranno essere presentate dai soggetti interessati al centro Informa Città entro il 31 gennaio 2017. Possono presentare la domanda il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, compilando l'apposito modulo. Per informazioni ci si può rivolgere all'ufficio pubblica istruzione e cultura da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì anche dalle 16 alle 18. La gilda degli insegnanti di Oristano si è trasferita. La nuova sede in via 20 Settembre, primo piano, angolo viale Diaz. Una sede grande, luminosa e bella, si legge in una nota del sindacato. Idonea a ricevere le colleghe e i colleghi che vengono a trovarci, adeguata a un sindacato che è cresciuto notevolmente e che sta crescendo rapidamente. La sede è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19. La mattina e gli altri giorni si riceve su appuntamento. Sabato 17 dicembre alle ore 10, presso i locali del centro civico di Santa Giusta, si svolgerà un importante convegno dal titolo Industria Sardegna, la cultura, l'ambiente e l'agroalimentare. Promosso dall'Associazione Cultural Festival e dal Comune di Santa Giusta, dedicato alle potenzialità di un nuovo sviluppo sostenibile dell'isola, legato al suo incredibile patrimonio culturale, ambientale e dell'agroalimentare di qualità. Dopo il saluto del sindaco Antonello Fius e del presidente di Culture Festival Marco Dessi, si confronteranno sui diversi aspetti legati alla valorizzazione del patrimonio dello sviluppo sostenibile territoriale, collegato ai nuovi flussi turistici del settore croceristico ed elaborato in linea con gli strumenti della programmazione di aiuti europei. Si parlerà di portualità e di nuove opportunità del settore, con il comandante della Capitaneria di Porto di Oristano, Erminio Di Nardo, e il direttore generale dell'autorità portuale di Cagliari, Roberto Farci. Di sviluppo locale legato ai piccoli centri con grande patrimonio culturale che si relazioneranno con altre regioni europee, attraverso la costituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale, di cui parlerà il professor Barzanò dell'Università Cattolica di Milano. Il tema della programmazione territoriale e dello sviluppo locale saranno invece illustrate dal direttore dell'assessorato regionale alla programmazione Gianluca Cadiddu e dal sindaco di Castelsardo Franco Cucureddu. La sessione pomeridiana che comincerà alle ore 15 sarà aperta dai saluti di Matteo Garau, assessore all'ambiente del Comune di Santa Giusta, e sarà dedicata al patrimonio ambientale e delle produzioni agroalimentari di qualità. Sarà un'importante occasione per una riflessione tra esperti, tecnici, amministratori locali e associazioni culturali, conclude la notta, che insieme proveranno a tracciare una proposta di sviluppo sostenibile legata al territorio oristanese e all'isola intera, individuando anche le linee guida per un sostegno economico di profilo regionale e europeo. Dottor Francesco Carta, oggi a Doristano parlate di bioetica ed in particolare di quello che è definito il testamento biologico su posizioni nettamente differenti rispetto alla Chiesa, anche perché il Vescovo, proprio Monsignor Sanna, qualche giorno fa ci ha dato una sua dimostrazione del pensiero. Voi come la pensate? Noi parliamo di dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari. Il nostro problema, il punto di vista che vogliamo sollevare, è l'importanza che ha l'autodeterminazione dell'individuo sulle scelte e sui trattamenti sanitari. Semplicemente questo, le questioni sono molto semplici. Poi si possono avere punti di vista diversi sui vari aspetti della vita, sia durante la nascita che sul fine vita, però l'aspetto più importante che noi vogliamo ribadire è il problema delle scelte e dell'autodeterminazione e della libertà di accettare o meno le cure mediche. Del resto, la legge e le normative sul consenso informato hanno fatto dei passi da gigante in questi ultimi anni e qualsiasi trattamento deve essere giustamente proposto al malato e il malato è libero di accettarlo o meno o di scegliere tra diverse ipotesi che ti vengono proposte. Diverso è la condizione di chi non si trova in condizioni di decidere per incapacità momentanea o incapacità permanente e a decidere per le condizioni a seguito di traumatismi acuti oppure di malattie croniche che ti portano ad una perdita di coscienza e ad un permanere delle condizioni di stato vegetativo. Per questo è possibile che il cittadino esprima, quando è in condizioni capaci di intendere e di volere, degli orientamenti, delle decisioni su questo. io vorrei che se io mi trovassi in determinate condizioni su di me venisse fatta per esempio la terapia del dolore o non vengano praticati interventi invasivi sul mio corpo. È una cosa molto semplice, si tratta di affermare il diritto dell'autodeterminazione dell'individuo. Sì, certo, autodeterminazione che a quel punto però si parla di un individuo che non è più in grado di autodeterminarsi. Quindi chi deve gestire questo aspetto delicatissimo della vita di un uomo? Capiamo che l'aspetto è delicato, infatti se ne discute da decenni ancora la soluzione non si è trovata. Si è trovata, infatti noi proponiamo una disfunzione aperta, libera, franca per arrivare a questo. Le dichiarazioni anticipate quando vengono fatte da un individuo, l'individuo indica un parente, un amico, un fiduciario che qualora ci si trovasse nelle condizioni che abbiamo ricordato prima di incapacità di poter decidere, garantisca quella che è la mia volontà. Altre persone, può essere mia moglie, un mio familiare, un fiduciario che io nomino e che garantisca che venga fatta quello che è il mio parere, il mio desiderio, quelle che sono le mie aspettative e le mie convinzioni. Etiche, religiose e di varia natura. Ente concerti al Bapani Passino di Oristano, quest'anno anche per il 2016 siete riusciti a organizzare con molte difficoltà un concerto per Natale, l'ormai tradizionale concerto gospel. Ce ne vuoi parlare Silvia, Presidente? Sì, siamo riusciti perché come ho già avuto modo di dire, io sono un po' tosta, un po' dura e quindi la programmazione che abbiamo presentato agli enti la stiamo portando avanti con grande difficoltà, per carità, facendo grandi salti mortali, però siamo riusciti in effetti ad accontentare anche agli oristanesi perché in Urachi, dove andremo appunto a fare l'annuale appuntamento con i gospel, che tutti aspettano, riusciamo a farlo insomma, quindi anche per gli oristanesi non è uno spostamento così, come dire, così gravoso insomma. Diciamo che siamo a pochi chilometri e quindi sono riusciti a digerirlo. Noi naturalmente l'avremmo voluto fare ad Oristano, ma non essendoci strutture con almeno 400 posti collaudati, con tutte le autorizzazioni, ci è venuta all'ultimo momento proprio l'idea di chiedere al Comune di Urachi, che si è mostrato assolutamente solidale e quindi lo faremo lì. Senza, naturalmente è un centro polivalente che tutto sommato è studiato, pur con caratteristiche molto differenti rispetto a un teatro, però è studiato per ospitare anche manifestazioni di questo tipo e in passato noi ne siamo stati testimoni, sono venute bene anche delle manifestazioni organizzate lì. Non è la prima volta nemmeno che voi con Mente Concerti vi spostate da Oristano per organizzare manifestazioni nel territorio, perché non è soltanto Oristano il vostro punto di riferimento per le attività. Resta però un po' il ramarico perché questo concerto tradizionale di Natale nasce a Oristano e per la prima volta si sposta. Sì, è vero, però ripeto, noi dobbiamo portare avanti la programmazione, abbiamo tentato, cercato di fare veramente da tutte le parti ad Oristano, però è necessario che ci siano le autorizzazioni, che ci sia la tranquillità, abbiamo anche l'assicurazione, noi siamo coperti in tutto e per tutto, le cose quando le facciamo le vogliamo fare per bene, per cui Nuracchi però credo che vada comunque bene, poi chissà l'anno prossimo se riusciremo a fare la programmazione completamente ad Oristano. Certo, 23 dicembre, lo ricordiamo, Re 21, centro polivalente di Nuracchi. Sì, il gospel Anthony Morgan's Inspirational Gospel Choir of Harlem, quindi insomma un gruppo molto importante che l'anno scorso ha vinto, se non sbaglio, il premio internazionale al Parco della Musica a Roma. Grazie a tutti.